E' stata inaugurata a Roccamandolfi la mostra materialmente sculture e pitture ceramiche di Domenico Gianfrancesco. Alla presenza del sindaco Giacomo Lombardi, di alcuni consiglieri comunali e di un buon numero di curiosi, la mostra ha riscosso un buon successo di pubblico. Domenico Gianfrancesco del resto appartiene a quella schiera di ceramisti e artisti che attraverso le figure, i segni, le storie narrate dalle immagini che propone, nella magia di una creatività elaborata dalle mani, nei misteri di formule, negli intrecci di culture, traccia l'itinerario di un viaggio nei segni di un'arte, di un modo di ridisegnare, plasmare, modellare e immaginare la realtà. Il Comune ha dato il suo assenso, poi ha fatto tutto lui con la sua famiglia e per questo gli vanno i ringraziamenti più sentiti. Tra l'altro questa è la prima manifestazione post-Covid, quindi anche quali sono importanti per noi perché è una ripartenza, una ripartenza lenta, con tutte le precauzioni del caso e forse l'arte su questo ci può venire sicuramente incontro, anche perché la mostra, dicevo prima, va visitata anche in maniera tranquilla, serena, da sole, soffermarsi su vari aspetti. Gianfrancesco è un creativo per eccellenza, vivace nella pittura, intelligente nello sperimentare nuove tecniche, ma soprattutto è uno che crede nella libertà, un principio basilare che non consente di ipotizzare norme o criteri artistici che siano immutabili e definitivi, validi al di là dell'esperienza vissuta. I suoi dipinti su tela, le sue creazioni ceramiche ne sono una confutabile prova. Ci sono opere in giro anche di grandi dimensioni, questi sono solo bozzetti, queste strutture in c'è un elemento massimo, materiale che poca gente sa usare o non usa, si possono fare opere anche di 20, 30 metri alti. Quella è una struttura che rappresenta due rile e ora ne sto prendendo una di 6 metri alta, logicamente porta a strutture metalliche abbastanza grande. La mostra resterà aperta per tutto il mese di agosto, nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 20, escluso il 14 e 15 agosto e arricchirà così l'offerta turistico-culturale del paese matesino.